Quest'anno festeggiamo i 70 anni di Tex con molte iniziative nuove, molte mostre e pubblicazioni nuove e io stesso sto collaborando perché a settembre, quindi nel periodo del compleanno di Tex, uscirà il magazine di Tex speciale e ci sarà dentro una storia mia. Quindi partecipo anche io a questi festeggiamenti del compleanno di Tex. A Rezzo è diventato il centro della creatività del mondo di Tex con 4-5 elementi. Allora tra chi ha disegnato Tex e chi lo disegna tuttora, chi lo sta per disegnare, praticamente quasi tutti gli autori aretini si sono scimentati con le avventure di Tex Wheeler. Adesso siamo in tre impegnati sulle storie di Tex. Oltre a me c'è Rossano Rossi che lavora per la serie regolare di Tex e uscirà l'anno prossimo con una storia nuova doppia. E c'è Fabio Valdambrini che sta facendo un progetto assolutamente top secret che riguarda Tex e sembra che riguardi la giovinezza di Tex. Grazie. Grazie.